ahahahah Micheletta è seriamente ta Cosa ha fatto? Cos'è successo? Come ha fatto? No lo so io come ha fatto Io non lo so lo scudo Eh ah ah Lo scudo ero in obliquo Non ho capito Avevo lo scudo che era Avevo la parte dello scudo in testa Non ho capito Avevo il lato dello scudo che era Conficato nella testa e quindi lui Mi riuscì a prendere tranquillamente Era una cosa